E benvenuti ragazzi fuori su noi e bentornati quest'oggi su questo mio nuovo video sul canale assieme a Kron Ciao bellissimi Ci cimenteremo quest'oggi su un trick game che in cosa consiste Allora praticamente dobbiamo fare un tentativo a testa di trick Anche Sti cazzi sti cazzi sti cazzi Beh sta di fatto che siamo due kip Allora lo spot è questo Si può accedere tra allharder oppure buttarsi un dropback di là Infatti l'harder per fronte è un qualcosa di mistico In cosa consiste comunque diciamolo Porco dio Bisogna mettere 5 trick ogni volta che si hitta un trick bisogna matcharlo Matcharlo vuol dire fare lo stesso trick beccando l'avversario L'ultimo kill a K perde Uh questo il pelino l'ho visto eh L'ho visto sto pelino qua Ma non c'è qualcosa di cosa Le video faremo Pitturare baltoni Cosa? Oh ma come fattere un prezzo? Cazzo vuol dire pitturare baltoni Ma pitturare baltoni Quanto ti ha impagato? Quanti centesimi all'ora? Non ne ho idea Ancora il calario deve arrivare Ma io c'ho l'ultimo colpo Ti sei finito con l'ultimo colpo? Non ti ha quanto aiuto Mettiti pochino a sinistra Pochino che c'è una finestra Ah la finestra Sti cazzo Oh madonna cara No fra la piedi che morti ti becco Ti becco per forza Non è possibile Ti devo beccare per forza Te lo dico io Te lo dico io Cosa? Cosa? Non entra il colpo Non entra il colpo È un gioco di merda Non entra il colpo Cacca di dio Dai io Come cazzo è? Senta la mia Vedi che non entra il colpo Sto faccio cosi Non entra il colpo Ti prego No No Ma cos'è? Cazzo Cos'era? No Invece da tirare No Vabbè Siamo atti per me Sì 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 Un 7,29 Un 7,29 Una cazzata Sono sti cazzo Sono contento Vai Uno E siamo a due Merda Siamo a t Anche per cosi Che pelo No Che pelo Che vita di merda Che vita di merda Cazzo Continuo a fare Sti tripi di merda Ma mi viene un pelo Ogni volta Dobbiamo avere Tipo delle parole Fortunate Per esempio Che cazzo Ne so Ah Qualcadio Si è colpino Contra un tasco Per esempio Vediamo se Sento così Provi scarso No Ci ho provato Guarda qua Lo sto io Provo In punta Sì Buongiorno 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 Per il prossimo round Te l'ho detto Cazzo Peccato Ti era l'ultimo colpo Se no Usciva diverso Sarge Sarci a destra Ne C'era la merda Abbiamo fatto Ricarica E running Man in air Ricarica Oh fai la ricarica Se va a destra Running Man in air E uno è andato Qualcuno Qualcuno a TR Questo ha fatto un pelazzo Della madonna Fidati Che però Vedi che tu sei un merda Perché neri serie Allo spigolo Ti avrei beccato Sì 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 Ok 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 Sento fortunato Sento la lax No 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 Cazzo Ma dimmi che c'erano i bambini Magano Stavo per morire Come ho fatto Non prenderlo Ti giuro Davanti ho sparato Non è che dici che ho sparato D'altra parte Cazzo Scherzo Vedi Sì 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 E iniziamo In tra l'altra L'ho sentita L'ho sentita L'ho sentita Sì 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 Pum Qua ho filato Quello dei pezzi originale Allora C'è pure il pedito Ovviamente cosa ho fatto Accoltellata Accoltellata Cos'era? 7.20? 1.80? Vai E uno è andato Si stuola pure da solo Mi sa che qualcuno qua Si è beccato Ah! Qualcuno si è beccato Ma iiii E si continua E andiamo Siamo in percorso La lac La lac Madonna Che era Non ho saltato Sì 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 Il migliore Mamma mia signori Beccatelo Sto varial No Ha laccato tutta la ginkam Sì C'è la registrazione Ecco la tremora è più facile frate Ora provo una cosa in possè Provo Aaaaaa Guarda come rosica Guarda come rosica Guarda come rosica Lidzo Lidzo Lidzino Madonna Madonna Chiara Guarda Guarda Uuuu Guarda Guarda ho spazato la finestra Siamo pronti Per il final trip Uuuu Siccome siamo qui da un'ora e mezza Praticamente io ho già la terza volta che riporto lo suo discorso Ah Kroni è venuta in mente una nuova serie dove sarà il protagonista E diciamo l'emblema di questa serie sarà il beatbox Che farà lui ovviamente Sto guardando la base in sto video E' un cavo Seee 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 The Master Uuuu Ooooo Mi sa che abbiamo un vincito Mi sa che abbiamo un vincito Metti No dal Lazer Bello La La Ho fatto Ho saltato Tac Flip Sempre Sempre girando Poi Silence Ma cosa Ma cosa No Devi fare i tag Devi fare i tag Devi fare dei penneos di ladder Non è difficile Prima ti puoi puoi sopra al ladder Do vậy Mentre salti E giri E fai lo scatto Azz Ecc Qualcuno qua ha perso Siamo anche a K per Kron Che dire, partita combattuta Ok, spero che comunque questo trick game vi sia piaciuto Ci abbiamo messo un'eternità, porca troia Registrando praticamente, sono un'ora e quaranta minuti Noi siamo stracotti di questo Comunque, lasciate un mi piace e un commento Se vi piace questa serie, non so Scriveteci anche, cioè consigliatemi Qualche serie nuova, magari che nessuno ha ancora fatto Challenge, tutte queste stronzate che piacciono a voi Esatto Oppure, vabbè, voglio andare anche online In senso, online è anche più carina come cosa Comunque, niente, spero che il video vi sia piaciuto E Kron mi parla sopra, porca oddio Spero che il video vi sia piaciuto e al prossimo video Bella Bella Vabbè Tutte tutto trevi.